Amici di Marcosbox, benvenuti in questa quarantesima puntata del podcast di Marcosbox. Iniziamo la settimana parlando di Canonical e dei movimenti all'interno dei vertici apicali. Will Cook, il direttore tecnico di Ubuntu Desktop, lascia il suo ruolo all'interno di Canonical e al suo posto arriva Martin Winpress. Di sicuro molti di voi conosceranno Martin Winpress come leader del progetto Ubuntu Mate. Winpress guiderà dunque lo sviluppo della prossima LTS di Ubuntu. Di sicuro sarà capace di questo ruolo perché ha dato dimostrazione di saper coinvolgere i programmatori all'interno del progetto di Ubuntu Mate. Quindi in bocca al gruppo a Martin Winpress per il suo nuovo incarico e speriamo che vada tutto bene. Quindi la prossima LTS sia la migliore LTS di sempre. Passiamo adesso a Mangiaro. Mangiaro vuole il vostro aiuto. Sapete bene, Mangiaro ha tre edizioni principali. Quella con XFCR, quella con KDE e quella con GNOME. Quella con GNOME offre una serie di personalizzazioni che vengono fatte a registro non solo tramite software preinstallato ma anche come layout del desktop. Il team di Mangiaro ha deciso di voler cambiare il look di Mangiaro e GNOME. Cambiano quindi le estensioni preinstallate al fine di migliorare l'usabilità e le prestazioni della distribuzione perché molte di queste estensioni vanno a intaccare le prestazioni, quindi a lungo dei tempi di avvio e quant'altro. Ci sono poi anche altri problemi riguardanti le estensioni perché ad ogni meglio release di GNOME bisogna aspettare che le estensioni vengano aggiornate al fine di essere compatibili con una versione di GNOME. Questo quindi porta a dei ritardi, porta a dei cadimenti di prestazioni, porta a più lavoro da fare e quant'altro. Oltretutto poi ARC MENU è difficile da usare quando si è così vicino al got corner. Per esempio, Goro venga, Magiaro GNOME viene prilasciata con ARC MENU preattivato ma messo in quella posizione è molto scomodo da utilizzare. Da qui quindi l'idea di chiedere alla comunità di votare e di votare e di scegliere il layout. Sono stati fatti diversi layout, sono stati proposti, c'è quello tradizionale, c'è quello lì in stile Ubuntu, c'è quello in stile Mac OS e quello vanilla con soltanto la doc laterale. Se andate sul forum ufficiale, sulla discussione che è stata aperta sul forum ufficiale di Magiaro Linux, è possibile votare se siete iscritti e dire la vostra. Andate a votare. Io personalmente preferisco sempre il layout, quello lì alla Ubuntu e quello lì con il desktop tradizionale con la barra in basso. Anche se bisogna dire che stravolge molto l'aspetto di GNOME, però a mio avviso lo rende molto più usabile. Io il GNOME non lo riesco tanto a utilizzare, puro perché ci sono diversi problemi. Io lavoro molto con la gestione delle finestre, ho bisogno di cliccare perché per tanti anni sono stato abituato così, ho bisogno degli indicatori che su GNOME di default sono stati rimossi e altre cosine qualità. Ecco perché anche io quando installo una distribuzione con GNOME vado a personalizzare presentemente con le estensioni e anche per questo motivo ho apprezzato molto la scelta di Canonical di rendere la Ubuntu basata su GNOME più usabile con una serie di estensioni come per esempio l'estensione che ripristina gli indicatori, che per me è fondamentale. Comunque, andiamo avanti. Cambiamo distro, passiamo a D-Pin Linux. La scorsa settimana era stata mostrata una video enteprima del nuovo launcher che vedremo su D-Pin 20, questa settimana è stata mostrata una video anteprima della taskbar di D-Pin 20, quindi andatevelo a vedere, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo layout. Cambiamo distribuzione ancora una volta e passiamo a Fedora. Questa settimana c'è stato il rilascio della versione stabile di Fedora 31. La novità principale di questa nuova release è ovviamente l'arrivo di GNOME 3.34 come Dex Open Variant predefinito di Fedora che, sapete bene, porta una serie di benefici per quanto riguarda i miglioramenti delle prestazioni e dell'usabilità generale della distribuzione perché, oltre alle prestazioni migliorate, abbiamo anche meno lag, abbiamo delle animazioni più fluide, abbiamo delle nuove icone, abbiamo tante cose carine che appunto migliorano l'aspetto e migliorano le prestazioni di GNOME. Oltre alle consuete edizioni Workstation, Server e CoreOS, Fedora 31 viene rilasciata anche nella edizione IoT. Altra novità molto importante di questo rilascio è che Fedora 31 dice l'addio all'architettura Intel 32-bit. Questo significa che i versori più crescenti di Fedora non funzioneranno più su hardware più vecchio. Ed è un problema per gli utenti che utilizzano software 32-bit su sistemi A64 che continueranno a funzionare. Se avete una vecchia installazione, vi attaccate. Dovete aspettare che la distribuzione, praticamente che la vecchia edizione di Fedora termini completamente il supporto e vi toccherà passare ad altro se avete hardware datato che non supporto i 64-bit o fare una installazione ex novo. Ultima notizia. Cambio nuovamente di distribuzione. Parliamo di Linux Mint. Linux Mint 19.3 si chiamerà Trisha, uscirà prima di Natale e avrà una serie di novità davvero interessanti. Iniziamo con quella più evidente, è il nuovo restyling, diciamo così, grafico. Sono stati fatti dei ritocchi con un nuovo logo, è stata realizzata una nuova schermata di group, una nuova animazione, quella di avvio di playmout, con il nuovo logo. Poi sono state fatte alcune modifiche al software preinstallato. Ve l'avevo annunciato qualche settimana fa, Xplayer e VLC vengono sostituiti, al suo posto arriva Celluloid, che praticamente è basato su MPV, verrà sistemato in modo da integrarsi perfettamente con il sistema operativo e fornirà delle prestazioni migliori rispetto ai suddetti. Tomboy verrà sostituito da G-Note nella versione 3.34, l'abbandono di Tomboy significa anche per Linux Mint non avere più la necessità di essere rilasciata con Mono, perché praticamente Mono serviva soltanto per far funzionare Tomboy. Tomboy era anche una delle pochissime applicazioni rimaste che non supportavano l'HDPI, quindi anche grazie a questa sostituzione si avrà una migliore resa sugli schermi che supportano l'HDPI. XFCE verrà aggiornato alla versione 4.14, basata sulle GTK3 e che il supporto iniziale all'HDPI, quindi anche questa è una buona notizia per chi utilizza l'edizione con XFCE di Linux Mint. Il lavoro sulle API di X, App, Status Icon è terminato, sono state aggiunte Applet, Cinnamon, MATE e XFCE. Lib App Indicator è stato patchato, avremo quindi icone nitide su tutti gli ambienti, su Linux Mint 19.3, compatibilità a CAI dpi, e con supporto per iconi simboliche e senza problemi di rendering. Infine, l'ultima notizia riguarda l'aggiornamento dello stack hardware per migliorare la compatibilità con l'hardware moderno. Linux Mint 19.3 verrà rilasciato con i kernel 5.0 e XORG alla versione 1.20. Bene, con questa notizia chiudiamo questa puntata del podcast. Vi ricordo a tutti che il podcast è possibile ascoltarlo su Amazon, Spotify, TuneIn, su Alexa, se avete Alexa potete attivare la skill, e potete ascoltarlo anche su Apple Podcast, su Google Podcast, su Blog, tramite Feed RSS, quindi avete tutti gli strumenti per poter ascoltare il podcast. Infine, vi chiedo, la cortesia, se avete un account su Amazon Alexa e installate la skill, Alexa non partire, di recensire la skill e mettere un commento positivo, che fa piacere e aiuta anche ad ottenere un po' di maggiore visibilità. Bene, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci ascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!